Ma al di là del risultato, credi che un professionista uguale di essere sia giusto? Tu sei di Benevento? Sì, sono di Benevento. Attendo e rispongo un po'. Sia giusto fare... Tu esci a fuori. Saresti un professionista? Io sono un professionista. No, io ti volevo una domanda, puoi gestarci verso il riposo? Non ho fatto nessun genere, no, ho fatto una visita dall'occhio. Ah, io? Tu dici di essere uomo, almeno prendi la responsabilità di essere uomo. Chiedi alle donne a Benevento se esso uomo vuoi. Vai, vai un'altra. Vabbè, te lo scusate.